Ciao a tutti, io sono Michela, io sono Simone, siamo due giovani medici in formazione, amici di Ubrain e vi diamo il benvenuto sulla nuova rubrica Looking for Vision, nella quale vi parleremo della visione del neonato. Perché questo argomento? Perché i neonati, già dalle prime ore di vita, a termine ma anche pretermine, possiedono un ventaglio di sorprendenti abilità visive, le quali possono darci importanti indizi sullo sviluppo del loro sistema nervoso. Inoltre la visione è la funzione grazie alla quale il bambino organizza tutto il suo sviluppo e pertanto merita di essere promossa fin da subito. Questa rubrica sarà un viaggio alla scoperta delle abilità visive dei neonati e delle strutture che rendono possibile il loro funzionamento. Inoltre vi forniremo qualche piccolo suggerimento pratico per promuovere la visione del vostro bambino in ogni situazione della giornata. Continuate a seguirci sui social e soprattutto sul sito Ubrain. Vi aspettiamo al prossimo video. A presto! Grazie a tutti!